Finito adesso l'evento di Monaco, Xiaomi ha presentato tanti prodotti ma anche una nuova gamma di televisori. Adesso siamo qua per raccontarveli con chi questa gamma ce la porterà in Italia. Esattamente, sono Fabio D'amore e sono il capo della parte Ecosystem e seguo anche in prima persona la parte del TV per Xiaomi. Tre nuovi modelli, QLED, quantum pannello quantum, tagli? Tagli 50, 55 e 65 pollici. Come si posizionano? Perché voi avete un top di gamma che è un 75, avete tanti modelli entry level, questi mi sembrano decisamente completi perché comunque alla fine è sempre un QLED, è sempre Dolby Vision, è una Google TV. Esatto, è la prima Google TV che lanciamo quindi non più col sistema Android, si posiziona subito sopra la nostra serie 2 che è la fascia intermedia dell'Ultra HD e quindi è l'entry level del QLED. Come caratteristiche notavo che avete lavorato comunque molto sul design sia davanti che dietro perché è tutto alluminio, lo chassis intermette in alluminio quindi no le plastiche? No esattamente è uno chassis unibody tutto in metallo. Infatti vedevo anche i piedini in metallo, bordo in metallo, cornice molto sottile e ovviamente integrazione con l'ecosistema Xiaomi. Assolutamente, in questo momento sta girando la nostra Xiaomi Home App che fa diventare il TV un hub di controllo di tutti i prodotti interconnessi dell'ecosistema Xiaomi. Però ovviamente c'è anche la Google, c'è la Home, possiamo andare tranquillamente e tornare indietro e ci troviamo dentro l'interfaccia nuova di Google TV con tutto quello che ne consegue, quindi contenuti integrati perfettamente, possibilità di richiamare l'assistente a schermo e col telefono anche di richiamare tutte le app presenti. Corretto, assistente che si può richiamare anche solo con l'uso della voce perché ha il Fairfield Google Assistant integrato. Direttamente nel, per quanto riguarda l'audio che è sempre una cosa che sui... Allora come audio in realtà un audio leggermente migliore rispetto a quelle che sono le caratteristiche del mercato entry level, ha due speaker da 15 watt ognuno quindi 30 watt totali e supporta Dolby Atmos e DTS-X. I piedini sono fissi, possono essere fissi, quindi non possono essere allargati, c'è lo spazio per una sunbar forse, una sunbar molto sottile. Esatto. Una sunbar molto sottile e direi che mi ha letto praticamente tutto, sono prodotti molto semplici, ormai i televisori, non c'è davvero più... Ha tutto, a Dolby Vision, a pannello 4K, è un led, ho visto prima, edge led con illuminazione nella parte bassa, quindi diciamo il local di me lo tenete per... Solamente sul 75. Sul 75. Esatto. E ovviamente tutti chiedono sempre sì ma quanto costano? Più che altro perché i prezzi stanno aumentando di tutto, quindi paradossalmente però i televisori sono l'unico categoria di prodotto che riesce ad avere ancora un prezzo molto competitivo ed è tenuto nel corso di questi mesi. In questi TV ha visto negli scorsi mesi una pressione promozionale abbastanza importante rispetto all'anno scorso, dove per problemi di shortage ovviamente non si andava a promozionarlo così tanto. No, però facendo una considerazione di mercato, tipo gli smartphone, telefoni che costavano 500 euro, sono 800 euro e hanno perso anche qualche feature, erano impoveriti magari nelle fotocamere, non i vostri, in generale il mercato. Invece sui televisori non manca nulla, c'è tutto quello che ha bisogno di un televisore, di questa fascia, c'è addirittura il Dolby Vision IQ che è la versione quella che va a regolare col sensore di luminosità e il Dolby Vision a seconda della verità dell'ambiente, quindi diciamo ha proprio la versione maggiore Dolby Vision e non manca niente ma il prezzo? Allora il prezzo sono a partire da 599 euro e 90 per la versione 50 pollici, che è questa qui, questa è 50? Esatto, 699 euro e 90 per la versione da 55 pollici e 899 euro e 90 per la versione da 65 pollici. Verranno lanciati sul mercato il 17 di ottobre con un early bird che vedrà un prezzo promozionale di 549 euro e 90 per il 50 pollici, 649 euro e 90 per il 55 pollici è 699 euro e 90 per il 65. Perfetto, grazie. Grazie a voi.